Wella ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video di Clash Royale Allora raga nel video che teoricamente avete visto ieri abbiamo visto tutte le nuove diciamo le news sulla nuova stagione di Clash Royale Il nuovo aggiornamento contemporaneamente abbiamo visto i nuovi emblemi abbiamo visto il nuovo campione, il nuovo pass, la nuova arena e tanto altro ancora Quindi mi raccomando se vi siete persi il video di ieri andatevelo a vedere perché lì ci sono anche dei miei pareri interessanti Raga mi raccomando anche in questo video un bel like ozzo, iscrizione al canale e la campanella attiva così non vi perdete tutti i nuovi video che escono qui sul canale Sia di E-Day che di Clash Royale che di altri giochi anche non Supercell mi raccomando Proprio per questo infatti tutti i giorni raga vi ricordo che o dalle 17 o dalle 18 siamo in live su Fortnite per giocare la stagione 2 del capitolo 3 Mi potete anche fare domande in chat che magari in video non vi rispondo Bene detto questo raga che cosa andremo a vedere in questo video come avrete letto sicuramente già dal titolo andremo a vedere le nuove modifiche di bilanciamento Non riesco a parlare Allora le hanno aggiunte da pochissimi giorni veramente se non erro ecco esatto 8 ore fa quando sto registrando questo video per voi da circa 2 giorni Allora modifiche di bilanciamento di aprile 2022 Come avevamo visto inizio anno raga avevano detto che ogni 2 mesi facevano delle modifiche di bilanciamento rispetto a prima che ne facevano molte meno Infatti già a febbraio ci siamo visti con il video delle modifiche di bilanciamento e anche questo mese le vediamo assieme Allora intanto vediamo nel dettaglio le carte baffate e le carte nerfate Quelle in alto sono quelle nerfate no scusate quelle baffate invece quelle in basso sono quelle nerfate Ecco quindi abbiamo appunto lo specchio baffato, la valchiria baffata, lo spirito del ghiaccio baffato, domatrice di arieti baffata, scheletro gigante baffato, arcieri baffati e lapide baffata Invece per... anzi no non lo so raga se questo è l'ordine Mi sa di no, mi sa di no, no ok raga non è questo l'ordine quindi stavo dicendo una cazzata Andiamo a vedere qua nel dettaglio Allora buff abbiamo specchio, cavaliere d'oro, scheletro gigante, arcieri, spirito del ghiaccio Invece nerf abbiamo spirito del... no lapide, domatrice di arieti, regina degli arcieri, cimitero, valchiria, gran cavaliere Abbiamo anche in questo caso un cambio drastico per il gameplay di due carte ovvero l'estrattore di elisir e il gigante elettrico Attenzione raga perché questo non lo sapevo neanche io e adesso andiamo a vedere nel dettaglio che cosa succede Allora specchio Le carte copiate ora avranno ben due livelli in più dello specchio invece di uno Ahhhh Ecco perché raga nel video di ieri vedevo un tizio che clonava un gran cavaliere e lo aveva a livello 16 Infatti dicevo ma ha clonato il clone? Ma com'è possibile? E invece no raga ora lo specchio è stato baffato in una maniera impressionante E' un bellissimo buff raga eh E' un bellissimo buff questo perché un livello in più si sente un sacco Leggiamo la descrizione Lo specchio è sempre stato una carta abbastanza debole A cui i giocatori si affidavano principalmente per sorprendere gli avversari in specific situazioni E' verissimo questa cosa Verissima Con questa modifica speriamo diventi un'opzione più stuzzicante per il proprio mazzo Sicuramente si perché c'è ragazzi un livello in più rispetto a prima Quindi due livelli raga se avete una carta maxata specchiate livello 16 Magari un domatore specchiato al 16 Madonna Non mi immagino quanto è forte Cavaliere d'oro buffato e qui ci sta un bel buff perché l'avevano nerfato fin troppo Portata dello scatto aumentata a 6 da 5 quindi prima era a 5 scatti quindi 5 blocchi di scatto adesso è a 6 Gli attacchi concatenati terminano quando raggiunge una torre E questo è un altro bel buff raga perché adesso prima cosa succedeva Quando voi utilizzavate l'abilità e appunto il cavaliere scattava Magari se le truppe non erano tanto vicine alla torre che cosa succedeva Che il cavaliere d'oro scattava e poi si fermava nelle truppe Adesso finché non raggiunge una torre lui non si fermerà di scattare Quindi tanta tanta roba Abbiamo deciso di correggere parzialmente l'indebolimento precedente che è stato un po' eccessivo Il campione sarà più prevedibile ora che non continuerà più lo scatto una volta raggiunta una torre Ma gli attacchi che le infligge saranno più efficaci D'altro canto però sarà più difficile attivare le difese della torre del re con la sua abilità E questo è molto vero Esatto Quindi sarà un po' più complicato attivare le difese della torre del re Quindi la torre centrale sarà più difficile da attivare Nerf per lo scheletro gigante anche qua ci sta tutto perché nessuno lo utilizzava più Velocità colpi migliorati del 7% che è tantissimo E punti feriti aumentati del 7% che come ho già detto è tantissimo Il povero scheletro gigante non è ancora riuscito a ritagliarsi il suo spazio nell'arena Perciò abbiamo puntato a renderlo più resistente in modo che raggiunga le torri più facilmente Ed eventi più efficace come arma vincente Molto bello Arcieri Velocità colpi migliorata del 9% Molto bella Recentemente gli arcieri hanno avuto un calo di popolarità Ma ora che hanno fatto il tagliando degli archi Dovrebbero tornare al livello delle altre unità specializzate negli attacchi a distanza Quindi velocità dei colpi aumentata Ci sta come nerf perché anche questo Io ragazzi per ora con tutte le carte che hanno buffato sono totalmente d'accordo Spirito del ghiaccio Buff Durata del congelamento aumentata del 30% Un buff incredibile raga Chi gioca il 2.6 E qui c'è un ritorno interessante Perché raga ultimamente per chi non lo sa il 2.6 sta letteralmente morendo Perché c'è un meta che ormai non permette di giocare il 2.6 Almeno che non siate dei veri pro player di 2.6 appunto E oltretutto le carte non erano molto Non erano state baffate Adesso raga abbiamo visto nello scorso bilanciamento Se non erro che è stato potenziato il boschettiere Adesso è stato potenziato di molto Lo spirito del ghiaccio che ora ha una durata del congelamento del 30% in più E quindi il 2.6 raga sta ritornando probabilmente Me lo auguro perché è uno dei miei deck preferiti È veramente tanta roba Vogliamo che lo spirito del ghiaccio si distingua dalla sua controparte Lo spirito elettrico in termini di utilizzo Dopo questo rafforzamento speriamo che venga schierato principalmente Per contenere più a lungo le singole unità versiare E che lo spirito elettrico sia invece preferito per gestire gruppi di truppe Sordire brevemente i nemici o modificarne l'obiettivo Molto interessante questo cambio che hanno fatto Ma adesso raga andiamo a vedere i nerf Lapide Mamma mia meno male che l'hanno nerfata Perché ragazzi Mamma mia era diventata una cosa OP Tutti Tutti e dico tutti Avevano la lapide Oltre alla torre infernale Che anche quella era stata baffata Nel proprio deck Ovviamente soprattutto nei deck mastino Ma quello ovviamente è scontato Velocità di generazione rallentata Quindi un nerf che sicuramente si fa sentire non eccessivo ma che ci sta Velocità di generazione quindi dei tre scheletrini rallentata del 5% Dopo le ultime modifiche questa carta è letteralmente risuscitata Anche troppo Perciò l'abbiamo ridimensionata un po' Molto molto simpatico Dommatrice di arieti Mamma mia meno male Effetti di rallentamento ridotti al 70% Dall'85 Raga un nerf del 15% Tantissimo Allora La Dommatrice è perfetta per contraattaccare gli avversari Ma la sua capacità di rallentarli è un po' eccessiva Perché li fa muovere a malapena Con questo indebolimento l'effetto dovrebbe rimanere efficace Ma non si avrà più la sensazione che le carte colpite siano state ancorate al suolo Infatti raga prima una volta che la Dommatrice colpiva Le truppe avversarie era totalmente impossibile difenderle Almeno che non avevi una carta di difesa molto interessante Per esempio un cannone maxato O anche una torre infernale ancora meglio Allora lì riuscivate a fare qualcosa In altri casi No raga Era veramente troppo più Quindi ci sta come nerf E arriviamo alla regina degli arcieri Che forse per la prima volta Mi trovo in disaccordo con Supercell Velocità colpi dell'abilità Ridotta al 180% Dal 200% La regina rimane una forza della natura nell'arena Nonostante i precedenti indebolimenti Siccome pensiamo che possieda la quantità giusta di punti ferita Abbiamo preferito penalizzare invece l'abilità Allora Pensiero personale Secondo me la regina non andava nerfata Perché hanno già fatto molti nerf nel bilanciamento di febbraio Non andava nerfata a mio parere Però mi metto nei panni di chi è a coppe dalle 5800-6000 coppe in su Che è costretto a giocare per forza con almeno un campione nel deck Non per forza raga però quasi tutti ormai hanno un campione All'interno del proprio deck a quelle coppe lì Quindi mi metto anche nei panni di quelle persone Sicuramente in quel caso la regina può dare grande fastidio Quindi ci sta come nerf Però nel mio caso nel mio gameplay non l'avrei nerfata Ma naturalmente mi metto anche nei panni delle persone che sono ad un livello molto più alto del mio Che si ritrovano in difficoltà Cimitero Oh meno male Numero di scheletri generati ridotto di 1 E sembra un nerf minimo Ma in realtà raga è un bel nerf Perché prima ogni tot secondi si generavano se non erano 4 scheletri Ora se ne generano 3 Che è tanta roba Dopo il rafforzamento del gigante e l'indebolimento della strega madre Introdotti di recente Il cimitero si è imposto fin troppo in questi ultimi mesi Per questo motivo abbiamo deciso di ridimensionare l'efficacia Lasciando Barry sottoterra Scusaci Barry Povero Barry raga Allora Ci sta Ci sta perché anche la cimitero era diventata straupi La usavano tutti Quindi non ho nulla da dire in questo caso Valkyria No raga la mia amata Valkyria Va bene in realtà Ci sta perché Era da mesi e mesi e mesi e mesi Che la community voleva un nerf della Valkyria In tutti i deck c'è la Valkyria Compreso nel mio È veramente troppo forte Infatti proprio per questo raga È la mia carta preferita in assoluto Non la batte nessuno Carta preferita in assoluto Assieme al domatore e alla strega Però in assoluto la Valkyria raga È troppo 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 forte raga È una cosa veramente incredibile E finalmente hanno deciso di nerfarla Finalmente per le persone che si trovavano E anche nel mio caso Le Valkyrie in tutte le partite Ma un po' meno Nel mio caso Che la utilizzo Insomma Faccio un po' l'infamello Resta comunque raga Una carta potentissima Punti ferita ridotti del 4% La Valkyria è da tanto tanto tempo La mini tank più usata di tutti Con questo lieve indebolimento Speriamo che diventi un po' meno versatile E che lasci così più spazio Alle altre carte simili Ci sta raga Ci sta un nerf Era già da alcuni mesi Che dicevo che se l'avessero nerfata Io avrei accettato Perché insomma Ci sta Non l'hanno nerfata Hanno deciso di nerfarla Solamente ad aprile Quando in realtà Era già upita Da luglio Però insomma raga Ci sta dai Ci sta Ci sta Ci sta Gran cavaliere E qui ragazzi Ci sarà qualcuno Che in questo momento Sta festeggiando Perché veramente Ci sta Un sacco Gran cavaliere Danno alla generazione Ridotto Del 20% E secondo me Andrebbe nerfato Ancora di più Perché è troppo P Lo usano tutti 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 Io mi immagino Le persone che sono All'arena 11 12 Circa Quindi la situazione In cui mi trovavo io Fino a Settembre circa Che non riuscivo a salire Perché Ogni Singola persona Aveva il gran cavaliere Finché ho trovato il deck Per contrastarlo Che come ben Molti di voi conoscono È appunto il deck Che vi mostro in tutti i miei video Quindi Meno male raga Non è stato un nerf Total Totalmente Azzeccato Nel senso che Andrebbe nerfato di più Però già Questo è un gran passo avanti Ed è un gran nerf Questo è ragazzi Si parla del 20% Di danno in meno Alla generazione Quindi quando fa il salto Per generarsi Nonostante la sua stilosa Entrata in scena Sia il suo tratto distintivo Molti giocatori Trovano frustrante Frustrante Oh mio dio Non riesco a parlare Frustrante Il fatto che possa Neutralizzare le offensive Dei nemici sul ponte E iniziare addirittura Un contrattacco Vero raga Molto 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 vero Il gran cavaliere È molto usato Nelle fasce di trofei Inferiori Ma non dai giocatori Nelle posizioni I migliori della classifica Ed è verissimo Anche il discorso Che vi facevo prima Senza leggerlo Perciò Un indebolimento eccessivo Lo renderebbe Inutilizzabile Questa modifica Costringerà i giocatori A scegliere Con maggiore cura Il momento In cui schierare La carta E forse Ad aggiungere più unità Sostegno Se verranno a rispondere A un assalto nemico E adesso raga Arriviamo alle ultime due carte Forse le più interessanti Che hanno ricevuto Un cambio Di gameplay Quindi né un buff Né un nerf Dipende Da come voi Giocavate O non giocavate Appunto Queste due carte Se ritenerle Un buff O un nerf In ogni caso Il gameplay Di queste ultime due carte Che vedremo adesso Ovvero L'estrattore di elisir È un'altra carta Che non ricordo al momento Sono cambiate totalmente Come è successo Qualche due mesi fa A febbraio Per la mongolfiera Per il Cavaliere d'oro Se non erro O forse mi sto sbagliando Comunque Mi ricordo principalmente La mongolfiera Andiamo a vedere Estrattore di elisir Un'unità di elisir In più Alla distruzione Quindi cosa succede Quando si distrugge L'estrattore Ora vi darà Uno di elisir In più Durata Ridotta a 65 secondi Da 70 Quindi è Diciamo Dura meno Velocità di generazione Dell'elisir Rallentata da Rallentata a 9 secondi Da 8,5 Quindi Ogni 9 secondi Ora genererà Un Un elisir in più Ora voi direte Ma questo è un mega nerf Può sembrare un mega nerf Raga Però considerate Che vi da Un elisir in più Alla distruzione Quindi c'è un buff Allo stesso tempo Quindi Ditemi voi Nei commenti Se secondo voi Per l'estrattore di elisir È stato un nerf O un buff L'estrattore di elisir È una carta davvero unica Ma non è così popolare Da ormai molto tempo Ci auguriamo Che l'aggiunta di un'unità Di elisir Alla sua distruzione La renda un po' più Allettante degli incantesimi Durante il suo schieramento Continuerà invece A generare la stessa quantità Di elisir Ovvero 8 unità Andiamo a vedere Ultima carta raga Gigante Elettrico E anche qui raga Voglio che nei commenti Mi scriviate Se secondo voi È stato più un nerf O un buff E ovviamente fatemi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Di queste due carte In particolare Ma in generale Di tutto il bilanciamento Gigante elettrico Costo in elisir Ridotto da 7 Ridotto a 7 Da 8 Quindi ora raga Costa un elisir in meno E questo è un mega Un mega buff raga Perché uno di elisir In più Fa la differenza Però abbiamo Punti ferita Ridotti del 15% E danni Ridotti del 15% Mamma mia Mamma mia Finalmente raga Verrà utilizzato di più Perché mo Con i nerf precedenti Che ci stavano totalmente È stato Diciamo Molto meno utilizzato Adesso secondo me Rinascerà Già l'ho visto utilizzare In più deck Con le partite Che ho fatto Nella scorsa stagione Adesso raga Sicuramente Sicuramente Verrà utilizzato di più Finora Chiunque affrontasse Il gigante elettrico Senza neanche Un edificio nel mazzo Aveva poca speranza Di batterlo Ed è verissimo Io ce la facevo A batterlo A pelo Con il cannone Maxato Figuratevi Chi non ce l'ha Ora questa truppa Richiede meno elizir Ma è anche meno resistente Perciò dovrebbe essere Più facile da neutralizzare Anche senza edifici Tra l'altro Il suo nuovo costo Lo rende L'unico tank Da 7 unità Nota La riduzione Dei suoi danni Non modifica Il valore di quelli Del contrattacco Che rimane lo stesso Dell'incantesimo scarica Esatto raga Il contrattacco Della scarica Resterà Alla stesso Alla stessa quantità Di danni Appunto Che faceva prima Queste modifiche Saranno effettive A partire dalla prossima stagione Che inizierà il 4 aprile Come sempre Condividi pure con noi Le tue opinioni Sulle nostre pagine social In inglese Quindi raga Appunto da oggi Quando sto registrando Questo video per voi Già da qualche giorno Questo bilanciamento È già in game Quindi potete già Effettivamente verificare Voi stessi Che queste modifiche Sono arrivate in game Io ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E che vi sia comunque Tornato utile in qualche modo Vi ho detto la mia opinione Su tutto Ma ora voglio sapere Anche la vostra Qui sotto nei commenti Non vi costa nulla raga Se vi va Scrivetemi un commentino Qua sotto Io raga Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lo scelto come tu Mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perderevi nessun video Seguitemi su social Trovate tutti i link In descrizione Ci vediamo domani alle 15 Con un nuovo video Qui sul canale E raga Non so se lo farò uscire Domani alle 18 Come questo video E quello di ieri Ma Comunque in questi giorni Se non uscirà domani Raga Voglio fare un video Un po' dedicato A una mia opinione Che ci tenevo Da dirvi già da un bel po' Finalmente vi parlo Di questa cosa È un video dove Vi dico una cosa Che magari a molti di voi Potrebbe Tornare utile Ed essere interessante Riguardo A Come secondo me Bisogna approcciarsi Con youtube Interessante Per alcuni di voi Sicuramente Quindi Se non volete perdervelo Iscrizione al canale E campanella in attiva Su tutte Non vi costa niente Raga è gratis Ci vediamo domani alle 15 Raga Bella Grazie a tutti Grazie a tutti